buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv e bene dopo tre giorni ci ritroviamo con i giornali in edicola e quindi dopo la pausa insomma riprendiamo il tram tram che ci porterà poi fino alla fine dell'anno bene oggi è mercoledì 27 dicembre 2023 e si festeggia lo vediamo subito san giovanni apostolo eccolo uno dei grandi santi uno dei maggiori apostoli che seguirono gesù pescatore fratello di giacomo il minore apostolo prediletto assistente alla trasfigurazione e fu vicino a gesù nel momento della crocefissione insieme a maria passo poi la maggior parte dei suoi anni a efeso insieme alla madonna presente a roma fu esiliato nell'isola di patmos dove scrisse l'apocalisse e poi più tardi scrisse l'ultimo il quarto dei vangeli canonici il vangelo della divinità di cristo questo è san giovanni quindi auguri a tutti coloro che hanno questo bel nome giovanni vediamo anche le previsioni del tempo continua il temperatura mite di questo inverno che non conosce il freddo per fortuna ma qualche volta anche bisogna considerare le esigenze della terra che vogliono il freddo ebbene oggi è un'insegna della variabilità sulle marche stante la presenza di frequenti annuvolamenti ma senza piogge il calo termico 8 13 gradi questa è la temperatura ma quella percepita insomma questa mattina non è affatto freddo dobbiamo dire sulle coste spira un vento debole da ovest nord ovest mentre nell'interno da sud sud est il mare è calmo non c'è grande vento il sole sorgerà alle 7 40 e tramonterà alle 16 e 34 ebbene fatte questi preliminari diamo subito un'occhiata ai giornali sfogliando per primo il resto del carlino e vediamo l'articolo di apertura eccolo qua covid rush di fine anno scatta la corsa ai vaccini open day ecco le date bene il covid sta dilagando purtroppo anche nel nostro territorio si vedono sempre più delle mascherine questo è un bene perché quando magari si partecipa a delle riunioni molto affollate bene proteggersi perché il virus sta circolando come sta circolando quello dell'influenza oggi somministrazioni senza prenotazioni negli studi medici in via gentile e in via togliati poi venerdì c'è l'appuntamento del distretto in via togliati un open day dove non ci sarà non sarà bisogno di prenotarsi dunque 400 inoculazioni in poco più di mezza giornata questo è quanto è stato fatto negli ambulatori e nel distretto di via togliati per accogliere coloro che vogliono vaccinarsi e ancora non sono riusciti a farlo all'open day di fano vediamo promosso dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territoriale venerdì 29 dicembre in via palmiro togliatrici si potrà ricaricare dalle 8 e 30 alle 13 e dalle 14 alle 18 e 30 non occorre dicevo prenotazioni bisogna soltanto mettersi in fila e aspettare il proprio turno ovviamente essendo un open day basterà presentarsi solo con la tessera sanitaria prima di venerdì però ci sono altri appuntamenti perché anche i medici di medicina generale nei propri ambulatori praticano praticano le vaccinazioni l'appuntamento per esempio è per oggi alle 16 e 30 dalle 16 e 30 alle 19 e 30 in via gentile da fabriano in via gentile sopra la farmacia ercolani via gentile sopra la farmacia ercolani via gentile poi in via togliati accanto al centro commerciale flaminio open day anche domani dalle 9 e 30 alle 13 nello studio medico di via gabrielli 59 mentre venerdì 29 dicembre dalle 15 alle 18 è la volta di via negussanti di fronte alla caserma paolini di fianco alla caserma paolini diciamo meglio insomma ci sono delle indicazioni un po così così però chi è di fano conosce bene dove recarsi in questo caso per fare le vaccinazioni vediamo altre notizie qui abbiamo una bella articolo di cronaca rosa claudia orciani nozze all'ombra della rocca si sposa la figlia del noto imprenditore di borse si sposerà nella notte di san silvestro e si sposerà nella dopo il rito religioso si sposerà nel rito civile nella rocca malatestiana uno dei luoghi storici più belli e suggestivi della città il resto del carlino lo definisce il matrimonio dell'anno perché la notte di san silvestro la figlia del titolare della nota azienda che opera nell'ambito della pelletteria si sposa e corona il suo sogno di amore la location ha due tappe di non poco conto la cerimonia religiosa si svolgerà nella chiesa di santa maria nuova dove ha fatto ritorno nei giorni scorsi la pala del perugino non è così non è così perché la pala del perugino è in mostra nella sala morganti del museo civico di fano in via a monte vecchio e lì rimarrà ancora in mostra per diverso tempo tornerà tornerà nella chiesa di santa maria nuova una volta che sarà finita l'esposizione ma ancora più d'effetto è la seconda tappa cioè il ricevimento che si svolgerà nella prima volta della storia della città nella rocca malattestiana la rocca malattestiana ne ha viste un po di tutti i colori è stato un fortilizio all'epoca malattestiana per la difesa della città è stato poi un carcere in seguito è stata poi anche un po degradata abbandonata è stata restaurata rivalutata valorizzata luogo di spettacoli e feste e quindi adesso anche una bella cornice per un matrimonio importante insomma chi vuole un po' conoscere insomma addentrarsi negli articoli di cronaca rosa può sbizzarrirci a leggere questo articolo piazzale rosselli è stato trasformato in un salotto poco prima di natale è stato inaugurato il nuovo arredo di piazzale rosselli dove insisteva l'antica porta marina della città siamo per dirla breve vicino alla bella napoli ebbene tutto il piazzale è stato ripavimentato sono state realizzate delle aiuole una nuova illuminazione un bellissimo aspetto primo luogo di passaggio un posteggio ora un bellissimo luogo di sosta ed è un aperitivo ha dichiarato così il sindaco al momento della inaugurazione un bel aperitivo perché poi i lavori stanno continuando lungo Viale Battisti fino a congiungersi con il waterfront di Sassonia giù fino al mare e vedremo nella prossima primavera tutto il progetto completato per una Fano più bella giriamo ancora la pagina e parliamo di bilancio bilancio preventivo che è stato approvato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Fano o nel bilancio preventivo che ora vede le critiche della opposizione ed in modo particolare Fratelli d'Italia con Andrea Montalbini che è responsabile regionale della Forza Politica e Davide Del Vecchio che intervengono sul bilancio ed evidenziano ovviamente le critiche colgono l'occasione per evidenziare come nel preventivo sia stata aumentata la previsione delle multe che incomberanno sui fanesi 3 milioni e 300 mila forse la cifra più alta che è stata mai ipotizzata in questo senso si tratta sempre di previsioni ovviamente e poi se i fanesi saranno più corretti pagheranno molto di meno o non pagheranno affatto cosa ovviamente impossibile. Comunque 3 milioni e 300 mila potrebbe così far ipotizzare una certa così lavorio, un certo lavorio in più da parte dei vigili urbani che potrebbero essere anche un pochino più severi nell'applicare le norme del codice della strada questo che lascia ipotizzare appunto l'opposizione e poi sono previste 400 mila euro di IRP fa aggiuntirve da pagare ma in realtà non si tratta di un aumento delle tasse si tratta di un aumento invece del reddito dei cittadini fanesi le tasse sono rimaste uguali a quelle dell'anno scorso non ci sono stati aumenti e poi viene anche considerato l'aumento di 200 mila euro dell'Atari ma questa è una previsione e poi vediamo come si realizzerà nel corso dell'anno così come ha illustrato la dirigente del servizio segreteria del comune di Fano Daniela Mantoni a questo proposito vediamo anche un articolo sul Corriere Adriatico che riguarda proprio le tasse applicate dall'amministrazione comunale di Fano cresce il reddito medio dei fanesi lo dimostrano le entrate dell'IRPEF un segno di ripresa delle attività economiche anche se si allargano le situazioni di povertà in realtà da una parte cresce il reddito complessivo dei fanesi dopo la crisi che è subentrata con il Covid c'è una certa ripresa delle attività economiche dal momento in cui c'erano tutte quelle norme che chiudevano gli esercizi pubblici insomma c'erano delle restrizioni veramente forti ora tutto questo nonostante che il Covid sia presente viene liberalizzato ma l'aumento del reddito fa sì che il comune incassi di più rispetto all'anno scorso un segno di ripresa delle attività economiche e su questo articolo vediamo appunto Daniela Mantoni che ha illustrato il bilancio torniamo ora al resto delle carlino e vediamo che oggi daremo l'addio all'ex sindaco Mazzoni Gustavo Mazzoni si svolgeranno questa mattina alle ore 10 in Duomo i funerali dell'ex sindaco di Fano Gustavo Mazzoni scomparso sabato all'età di 86 anni primo cittadino a metà degli anni 80 era succeduto a Franco Trappoli che si era dimesso per assumere per partecipare alla campagna elettorale politica per la Camera dei Deputati luogo in cui poi Trappoli è stato eletto Mazzoni seppe avviare quello sviluppo turistico e industriale di una fano adagiata allora ancora sull'agricoltura pesca e piccolo commercio era il momento dello sviluppo della città di uno scatto di reni per quanto riguarda la terza città delle Marche è stato anche il sindaco della visita di Papa Giovanni Paolo II a Fano ed è stato il sindaco del gemellaggio con Rastat un gemellaggio a cui Mazzoni teneva moltissimo perché era stato improntato per così uno scambio di attività per l'assistenza ai più deboli ai più disadattati, ai disabili Cassonetto a fuoco ed altri imbrattati in Viale Cairoli ancora un cassonetto della carta a fuoco un giorno di festa questa volta è capitato in Viale Cairoli il viale che conduce al mare erano le 11.30 di ieri mattina quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme nell'isola ecologica a pochi passi dal sottopasso che conduce al Lido e quindi anche questo un atto teppistico San Lorenzo andiamo nell'entroterra San Lorenzo mette al sicuro ponti e strade conclusa una serie di interventi da parte del sindaco Dell'Onti un interventi di manutenzione straordinaria in via Mazzalaio e su altre arterie di competenza comunale sono lavori che hanno interessato la rete viaria e a fare il punto in questo caso è appunto il sindaco Dell'Onti e poi parliamo di un complesso musicale storico della città di Fano come la Bugaron Band Stappa è il nuovo brano della Borghetti Bugaron Band è un pezzo molto molto popolare molto vivace un brano scansonato e ironico perfetto per le feste natalizie e Stappa ovviamente è quello che precede il brindisi il brindisi augurale delle feste Buon Natale, Buon Anno, Buon Inizio per quanto riguarda il 2024 a Urbino anche a Urbino si parla di bilancio c'è anche in questo caso l'intervento della opposizione la quale con il consigliere comunale di minoranza Lorenzo Santi che appartiene al Partito Democratico afferma che ci sono poche risorse per lo sviluppo di Urbino ovviamente il dibattito in questo caso è molto intenso tra maggioranza e opposizione c'è chi si loda per quanto è stato fatto e chi critica invece per quanto non è stato fatto ma anche per quanto è stato fatto perché non è stato fatto nei modi opportuni secondo sempre l'opposizione Lucchini la mia creatività parte da Urbino Lucchini è un cantante molto apprezzato che ha dedicato alla città Ducale la sua ultima canzone un grande flusso di ricordi legati all'epoca in cui studiava nella scuola del libro sono momenti veramente indimenticabili quelli trascorsi ad Urbino da chi ha affinato la sua preparazione culturali o alla università o alla scuola del libro oppure ugualmente nelle scuole superiori vediamo un ultimo articolo dell'entroterra sul resto del Carlino muli e trasporti legna un connubio millenario una giornata di studio e riflessione è stata condotta a Cantiano sull'antica pratica l'animale in grande connubio con l'ambiente e l'uomo ormai i muli non si vedono più in realtà ancora esistono e sono pronti e sono efficaci nel svolgere dei determinati servizi che magari nelle auto nei camion magari quelli che più possono andare nei terreni scoscesi riescono a assolvere il mulo rimane un punto di riferimento importante vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro si parla di cronaca per quanto riguarda le feste i fatti di cronaca eccoli qua la folle corsa della coppia in auto due giovani sono fuori di galera andranno ai domiciliari dai parenti il GIP ha convalidato gli arresti ma li ha scarcerati il 23enne ha detto di essere un corriere della droga la ragazza di 25 anni domiciliata a Treviso ha negato ogni responsabilità non sapevo di 5 chili di ascis ebbene li hanno scarcerati pure riconoscendo che sono pericolosi che sono un po' quelle sentenze che lasciano un po' perpless il pubblico quando uno viene riconosciuto colpevole e poi viene scarcerato il GIP Antonella Marrone comunque ha deciso di convalidare gli arresti dei fuggiaschi della Ford Puma inseguiti la sera del 22 dicembre scorso e catturati dalla polizia a largo Aldo Moro ma non ha ritenuto di lasciarli in carcere andranno ai domiciliari col braccialetto elettronico si tratta di Abder Legouris 23 anni senza fissa dimora ma domiciliato a Fano era il conducente della Puma ed è stato accompagnato a casa dai genitori che abitano nella nostra provincia e dovrà restare agli arresti domiciliari ed ora lasciamo queste cose insomma che sono un po' cose abituali di tutti i giorni e parliamo un po' del Natale ma del vero senso del Natale le feste che scaldano il cuore pranzo e cena per i poveri sì questo è il vero Natale i volontari emozionare emozionante servire i pasti a queste persone che hanno bisogno di conforto sono i poveri i poveri che hanno potuto beneficiare di un giorno di tranquillità di calore di accoglienza per quanto riguarda il Natale uno degli ospiti dice vivo per strada non mangiavo da tre giorni venire qui mi fa star bene ebbè dovrebbe essere Natale tutto l'anno ma vediamo anche quello che dice a questo proposito il Corriere Adriatico che parla di Fano mentre l'articolo precedente riguardava Pesaro ecco qua festa tavola per 200 bisognosi San Paterniano rinnova la tradizione grazie anche alle associazioni del commercio 200 pasti di asporto anche nel giorno di Natale mentre una ventina di ospiti hanno potuto così pranzare insieme nella sede della mensa di San Paterniano nei giorni scorsi è stato dato un assegno di 2.000 euro che proviene dalla festa di San Paterniano il giorno 10 luglio la festa del Santo Patrono quando si svolge la tombola ebbene parte del credo tutto il ricavato della tombola è stato consegnato appunto alla mensa e poi anche tanti alimenti i generi alimentari da parte della cooperativa Tre Ponti e dal Proloco di Fano oltre che dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e qua vediamo in questa fotografia i rappresentanti che hanno fatto questo atto di beneficenza crocifisso rubato al prete padre figlio in carcere per loro convalidato all'arresto il più giovane fa scena muta ma torna a casa ha detto di trovarsi il crocifisso in una piazzuola di sosta e di non sapere nulla del calice del valore sparito ieri mattina l'udienza di convalida in seguito ai tre arresti dei giorni scorsi che hanno visto coinvolti padre e due figli accusati di ricettazione avevano con sé questi oggetti sacri ebbene hanno cercato di minimizzare la provenienza come è avvenuto ma in realtà il giudice li ha riconosciuti colpevoli e poi vediamo Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi che fa visita alla quadreria Cesarini di Fossombrone il sindaco Berloni si confronta con il professore sulla ristrutturazione di questo centro culturale di grande importanza passiamo ora nell'entroterra e vediamo Cagli sapori di terra tre tappe per il percorso del gusto presentato un bel evento itinerante per la valorizzazione dell'agroalimentare e vediamo anche come Sapore di terra è una nuova iniziativa un titolo di un percorso gustativo e culturale che comprenderà diciamo così i comuni di Cagli Cantiano e Piobbico in programma da domani al 30 dicembre prossimo ripristinato a Cantiano il mulino di pietra dedicato al pane di chiaserna uno dei panni più buoni che si possono mangiare nel nostro territorio riqualificata anche una sala polivalente l'EBAM a Cantiano per approvare il bilancio ebbene a seguito dell'alluvione del 15 settembre 2022 l'ente bilaterale artigianato Marche l'EBAM ha messo a disposizione oltre 700 imprese artigiane iscritte nelle quali lavorano circa 3.000 dipendenti a queste aziende ha messo a disposizione un plafond pari a 500 mila euro per agevolare la loro ripartenza insomma per dare uno scatto in più a quello che è possibile fare per riprendere l'attività la pagina di Senigallia Bizzarri ecco perché si è dimessa l'ex assessore Ilaria Bizzarri e abbiamo parlato anche nei giorni scorsi in comune mi remavano contro ha dichiarato nella sua lettera d'addio l'ex assessore dice bloccata in tutto manca la squadra non c'è più fiducia e quindi ha preso questa decisione una d'aste che non tutti hanno il coraggio di prendere una decisione importante passiamo ora anche alla pagina di apertura di Pesaro saltando un po' le pagine di cronaca regionale e vediamo come l'apertura è dedicata eccola qua all'ex cif destino segnato si abbatte la colonia fantasma a un anno dalla giudicazione all'asta al via lite per la demolizione e la bonifica della struttura l'operazione interessa il blocco che è su via colbe in prospettiva verranno realizzati appartamenti anche per fini recettivi a Novilare invece si recupera il teatrino partendo dal muro in degrado il comune ha affidato il progetto il quartiere 3 dedicherà il piazzale alle provinciali e siamo in conclusione voglio concludere con questa notizia di cronaca droga prima volta da corriere ho perso la testa davanti all'alt si tratta di un giovane che si è presentato che si è presentato è stato presentato davanti al giudice ha scagionato la compagna andavamo in vacanza a Rimini purtroppo la droga è sempre presente anche nei periodi di festa di riflessione e magari di elevazione dello spirito ma così è e con questo noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle 7 e intanto riprenderanno anche i TG di Fano TV che stasera alle ore 20 e 30 quindi non perdetelo grazie per l'ascolto e a risentirci a Autore dei sorrisi